Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Nel mondo dell'orologeria le collaborazioni sono piuttosto frequenti. Nascono principalmente dall'idea di mettere insieme i fan di un determinato produttore e gli estimatori dell'altra realtà coinvolta. A volte ci sono abbinamenti di più facile comprensione, come nel caso dell'Oris Aquis Oceano Pulito in collaborazione con Umberto Pelizzari. Altre volte vengono invece accostate delle realtà un po' più distanti tra loro. Provate a pensare ad esempio alle recenti edizioni limitate Tagoyer Mario Kart. Nella stragrande maggioranza dei casi però da queste collaborazioni non nascono orologi del tutto nuovi, ma modelli con dettagli rivisti o in colorazioni inedite. Vi ricordate il Seiko Alpinist in edizione limitata per Odinchi uscito nel 2019? In quel caso si trattava semplicemente di un orologio identico in tutto e per tutto al Saab 017, l'Alpinist verde, ma con un quadrante in colorazione blu. E potrei continuare a fare tanti altri esempi di questo genere. Ma arriviamo all'argomento di questo video. Di One Milano è un marchio giovane, sia per la sua data di fondazione che per l'età media di chi lo gestisce e ci lavora, che ha però risultati di vendite davvero molto importanti in tutto il mondo. E Marco Bracca è lo youtuber italiano più seguito tra tutti quelli che parlano di orologi. Ecco, in questo caso l'abbinamento non è né sorprendente né difficile da comprendere. Dall'anno scorso il produttore italiano ha aggiornato il modello meccanico di punta con un upgrade sostanzioso, il calibro Miota serie 9000 al posto dell'NH35. Marco, che ha spesso una fissazione per gli orologi dal diametro ridotto e per questo motivo ci prendiamo spesso in giro, ha cercato di convincere D1 a realizzare un modello con caratteristiche simili ma di dimensioni più compatte. Ecco, questa è stata l'origine di questa collaborazione. Poi è stato scelto un quadrante in una colorazione dedicata e sono stati modificati alcuni piccoli dettagli. Scopriamo insieme com'è questo di One Milano per Marco Bracca. Il corredo è di impatto e proprio per questo ho voluto documentare l'unboxing. Non abbiamo a che fare con materiali lussuosi, sia chiaro, ma il packaging è davvero gradevole e appagante. C'è una busta con all'interno un certificato che attesta il controllo qualità sia sull'orologio che sul movimento. Questo non significa che il Miota all'interno abbia ricevuto regolazioni particolari, ma mette sicuramente al riparo da brutte sorprese. C'è una scatolina con il cinturino extra e poi all'interno di una sacca in stoffa c'è la scatola vera e propria con rivestimento personalizzato nel colore di questa limited edition. Premessa, a me il design gentiano con linee spigolose e bracciale integrato piace parecchio e qui sul canale potete trovare diversi video in cui ho provato alcune delle principali alternative a prezzi ragionevoli. Il colore scelto per il quadrante lo definirei un verde acqua. È molto particolare e anche grazie alla lavorazione Soleil cambia parecchio a seconda della luce, risultando a volte più tendente al verde e altre volte più tendente al blu. Si avvicina un po' altil di Zelos per intenderci. L'impostazione generale è quella già vista anche sugli altri modelli automatici del marchio, con logo stampato in alto e scritta automatico in basso. In questo caso manca la finestra della data. Gli indici sono applicati e sono gli stessi già utilizzati sugli altri modelli. Anche le sfere sono le stesse, sono lucide e di buona fattura, ma continuo a sottolineare come sia un vero peccato che le parti bianche al loro interno siano semplicemente verniciate e non riempite di pasta luminescente. Non abbiamo a che fare con un diver, è vero, ma se sono già state previste con questi inserti bianchi non capisco per quale motivo non completare l'opera mettendo anche un po' di superluminova. Il vetro è uno zaffero piatto con trattamento antiriflesso sul lato interno e si comporta davvero molto bene nel tenere sotto controllo i riflessi più fastidiosi. La cassa è di fatto uguale a quella utilizzata sugli altri modelli automatici, ma riproporzionata su un diametro più piccolo. E infatti ritroviamo anche qui le belle finiture già viste in precedenza. Uno degli elementi stilistici più riconoscibili è la lunetta, con ben tre tipi di finitura, lucida, satinata e micropallinata, che si alternano tra loro senza sbavature o imprecisioni. La Carreur è interamente satinata, a eccezione dei biselli micropallinati. Il fianco rivela uno spessore piuttosto contenuto e comunque proporzionato anche su questo diametro ridotto. La corona è posizionata a ore 3, ha la stessa forma originale, quadrata con angoli smussati già vista in precedenza. È a vite e la filettatura è un po' rubidina per i miei gusti, ma devo dire che dopo i primi giorni è diventata molto più fluida. Il fondello è tenuto in sede da 8 viti, a differenza di quello utilizzato sugli altri modelli automatici, qui non ha la finestra in vetro. Al centro c'è il monogramma di Marco ed è riportato anche il numero individuale dell'esemplare. Come vedete infatti ci saranno in tutto 150 pezzi. Poi c'è anche il dato sull'impermeabilità, un valore molto buono per un tuttofare, soprattutto se unito anche alla corona a vite. Il cuore di questo D1 Milano è il Miota 9039, la variante senza data del più frequente e diffuso 9015. Come ho già detto molte altre volte, questa è una delle migliori alternative in questa fascia di prezzo, con 28.800 alternanze all'ora, riserva di carica di 42 ore, possibilità di ricarica manuale e fermo macchina. Questo esemplare ha fatto registrare al polso uno scarto medio nell'ordine dei più 5 secondi al giorno. Il bracciale si integra alla perfezione, al design della cassa, di cui replica anche le finiture, visto che le maglie sono satinate, con biselli micropallinati. La chiusura doppia depploiante è molto bella perché una volta chiusa rimane quasi del tutto nascosta. Continua a mancare un qualunque tipo di microregolazione, ma questo è un problema ricorrente quando si utilizzano le maglie ad H, però continua a trovare sotto tono la scelta di non inserire due pulsanti di sgancio, presenti invece sui principali competitor gentiani. Nel corredo è fornito anche un cinturino in pelle nella stessa colorazione del quadrante. Questo è molto bello, purtroppo però il sistema di fissaggio del bracciale è molto scomodo. Ci sono infatti dei perni a vite che richiedono un buon livello di manualità per evitare di segnare le belle finiture della cassa con i cacciaviti. E' un vero peccato che non si sia adottato un sistema di sgancio rapido come sul Tissò PRX o delle normali anse a molla come sul Direnzo DRZ04 Mondial. Avrebbero reso molto più agevole il passaggio da bracciale a cinturino e viceversa. Veniamo alla vestibilità, l'aspetto che mi incuriosiva di più di questo orologio. Amo sia il PRX che il Direnzo DRZ04 Mondial, nonostante siano entrambi dei 40mm. Però ho sempre pensato che il D1 Milano da 41,5mm vestisse abbastanza grande. Allo stesso tempo temevo però che questo diametro così ridotto facesse lo stesso effetto dei PRX da 35mm che sul mio polso proprio non mi piacciono, li trovo troppo piccoli. Questa cassa da 36mm mi ha sorpreso molto, è davvero riuscita come proporzioni e ha tutte le carte in regola per diventare una scelta perfetta per tanti appassionati. Il peso contenuto fa il resto, rendendo questo D1 veramente comodo al polso. Il diametro è di 36mm, la distanza da ansa ad ansa è di 43,8mm, lo spessore è di 9,3mm e il peso con il bracciale installato è di 109g. Questa limited edition è molto interessante per il colore del quadrante e, ovviamente, per quanto riguarda le dimensioni della cassa. Rispetto ai modelli da 41,5mm di partenza è stata incrementata anche l'impermeabilità. Non ho notizie certe in merito, ma mi auguro che questa cassa ridotta venga utilizzata da D1 Milano anche per altri modelli della collezione permanente e non soltanto per questa collaborazione. Il prezzo è di 645€ ed è in preordine sul sito ufficiale del produttore, di cui vi lascio qui sotto il link. Se volete vederlo e soprattutto provarlo al polso, vi segnalo che sono previsti due eventi venerdì 27 gennaio a Milano e sabato 28 gennaio a Roma, in cui avrete la possibilità di incontrare anche il fondatore di D1 Milano, Dario Spallone e Marco Bracca. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video.